Mi ammanisce molto di più il risultato, è normale che la partita si è capito che non era facile, che era difficile, già la prevedeva anche così, con un allenatore nuovo, con una squadra che è fisicamente importante e che vuole fare bene. Di conseguenza, dopo all'inizio della partita, quando abbiamo avuto le palle a gol per metterle dentro e tutta la qualità ancora di più fa sentire durante la partita, questo, passavano i minuti e più frenesia nelle scelte, nelle decisioni dei singoli, erano sempre più complesse. Abbiamo avuto una squadra che si è chiusa bene, con un blocco molto basso, lavorato molto bene, non solo due linee strette, ma anche i giocatori sulle stesse linee, sullo stesso reparto, anche molto stretto e questo ci ha creato un po' di difficoltà, abbiamo cercato di forzare un po' anche i passaggi dentro e questo gli ha permesso una fase delle transizioni offensive importante. Abbiamo avuto l'occasione sufficiente per vincere questa partita, però c'è deluso e triste fondamentalmente per questa sera. Dipende da noi, sempre, siamo tutti vicini uni agli altri, abbiamo ancora tre partite, e ci dipende da noi di prendere i risultati e andare avanti in questo girone. Io sono molto fiducioso nei nostri mesi, nei nostri giocatori, in tutti loro. Credo che hanno molta qualità e oggi purtroppo la partita non si è messa bene per loro.